Notte di paura nell'Aquilano, la gente è scesa in strada dopo la scossa di magnitudo 4.2 registrata dai sismografi dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia a 3 km di distanza da Colle Longo, poco dopo le 19.30. La scossa è stata seguita da altre due di entità più lievi. Non abbiamo avuto danni a persone, ringraziando il cielo, adesso stanno arrivando alcune segnalazioni di piccole lesioni e crepe, ma cose di poco conto, adesso comunque ci affideremo ai vigili del fuoco per fare tutti questi sopralluoghi. Già nella serata di ieri il sindaco però ha aperto il centro operativo comunale e messo a disposizione la scuola e il bocciodromo per coloro che non volessero dormire nelle proprie case. Ma a far temere ora è anche l'ondata di freddo che sta arrivando proprio in queste ore. A Colle Longo nella notte di ieri si sono registrati meno 4 gradi e ora i venti freddi provenienti da nord Europa faranno scendere ulteriormente le temperature. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo per tutta la penisola, previste nevicate anche a bassa quota in Abruzzo, Molize e Puglia centro-settentrionale. A soffrire di più di questo repentino caro delle temperature saranno le coltivazioni di frutta e ortaggi tipici di questa stagione, ma anche gli allevamenti di bestiame. A lanciare l'allarme e col diretti sottolineando come nel 2018 il maltempo abbia causato un milione e mezzo di danni proprio nel settore agricolo.